Cari ragazzi, è proprio in questo momento delicato e unico della vostra vita quello della scelta del percorso formativo che noi docenti del Dipartimento di Chirurgia Generale Specialità Medico-Chirurgico Chirmed vogliamo farvi conoscere la nostra offerta formativa sulla sanità che si avvale di due corsi di laurea triennale e due corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di sei anni il corso di laurea triennale nostetricia offre l'opportunità di acquisire ampie conoscenze e competenze tecniche sulla salute riproduttiva, sulla gravidanza, fino alla gioia di praticare un parto e di tutelare la salute del neonato e della neomamma tali importanti competenze si traducono in notevoli sbocchi lavorativi a cui il laureato a Catania può cedere con elevato grado di preparazione grazie all'intensa attività pratica che viene svolta in questo corso di studi l'altro corso di laurea triennale del nostro Dipartimento è quello di tecniche di fisiopatologia per fusione cardiocircolatoria dove si forma un'importantissima figura professionale che supporta l'attività di diagnosi operatore della cardiologia e della cardiopirurgia è una figura particolarmente gradita da chi ama la tecnologia, il mondo digitale e la stella operatoria ma soprattutto è una figura in continua evoluzione che sta offrendo nuove opportunità di lavoro sia a livello nazionale che internazionale tre corsi di laurea magistrale che afferiscono al nostro Dipartimento Viodontoiatria che a Catania prevede un'intensa attività pratica su diverse cliniche distribuite sul territorio a tale attività pratica si associa un'attività formativa teorica svolta da un personale docente altamente qualificato infine abbiamo il corso in medicina e chirurgia è un percorso appassionante che richiede impegno ma che sicuramente sa pagare l'impegno l'innovazione tecnologica, la ricerca avanzata ma soprattutto il continuo aggiornamento sono le stelle polari del nostro universo ma lo spirito di umanità e la dedizione sono i sentimenti che vi devono guidare verso questa professione il corso di laurea in medicina e chirurgia a Catania offre una formazione teorica di elevata qualità che serve a formare le basi conoscitive per tutte le scelte che si aprono al vostro orizzonte nel post laurea a tale attività formativa teorica si associa all'attività pratica presso reparti e laboratori di eccellenza è divenuta particolarmente importante in quanto il corso di laurea in medicina e chirurgia è divenuto abilitante e pertanto il neomedico può esercitare la sua professione senza bisogno di ulteriori esami di stato si concludo dicendo che a Catania vi si apre un mondo di opportunità ma soprattutto di conoscenza di grande umanità e di interscambio culturale e professionale